Cirignotta, torniamo a parlare dei 32 milioni di euro di compensazione. Voi avete in mente una possibilità che è quella di poter stralciare una somma, sebbene minima, ma che potrebbe già dare una boccata d'ossigeno all'economia in sofferenza ormai da torpo tempo di Gela. Sì, in vista dell'incontro al Ministero sul protocollo chiederemo all'amministrazione comunale ufficialmente di farsi promotore di un'iniziativa per chiedere all'ENI di anticipare e stralciare una parte delle compensazioni, circa un terzo, riteniamo che possono essere sufficienti, per avviare nel più breve tempo possibile nella nostra città tre interventi che penso sono condivisibili da parte di tutta la cittadinanza, cioè quella della riqualificazione del portorifugio, la riqualificazione della seconda parte del lungomare e la realizzazione di un pianto per il trattamento del reflui da utilizzare poi in agricoltura. Inoltre voi tra le priorità tenete conto anche dei soggetti che sono ormai fuori dal mercato del lavoro e che difficilmente potrebbero trovare una ricollocazione? Sì, riteniamo che i cantieri che devono essere avviati con somme delle compensazioni, quindi che sono previste all'interno del protocollo, non debbano seguire delle procedure burocratiche quando più breve possibile per accelerare proprio l'avvio dei lavori, per dare lavoro alla nostra città. E poi non dimentichiamoci che sono di somme previste all'interno del protocollo d'intesa e bisogna tener conto sicuramente per quanto riguarda l'utilizzo della mano d'opera di tutti quei lavoratori che hanno lavorato per anni all'interno dell'indotto e che hanno perso lavoro e quindi non hanno come un reddito sufficiente per portare avanti il sostenimento delle proprie famiglie. Per fare chiarezza, Cilignotta, quali potrebbero essere i tempi per ipotizzare un avvio di questi lavori con l'utilizzo di questa quota parte delle compensazioni? Le autorizzazioni sulla bioreffineria sono state rilasciate. Il protocollo dice che in base allo stato di avanzamento del protocollo d'intesa poi l'Enea avrebbe messo a disposizione le somme della compensazione e quindi poiché i lavori della bioreffineria stanno per iniziare riteniamo che entro un breve tempo si possono mettere a disposizione queste somme della città per essere spese per dare un abboccato di ossigeno alla nostra economia.